Il colpo sarebbe meglio, è sicuramente meglio il problema muscolare Calcio di punizione per Kolarov, occhio che anche lui da lì è in grado di cercare la porta E occhio a Diekide sul secondo palo, Kolarov cerca la porta, la palla resta lì, Mucchio! Mucchio! Vediamo l'arbitro cosa decide, credo che abbia annullato Ha annullato l'arbitro, adesso vediamo cosa è successo perché francamente nel Mucchio è successo, credo, di tutto Calcio di punizione Siviglia chiede spiegazioni, ha detto io, io, Kolarov Siviglia la tocca Fallo di Cruz, credo Cruz fosse sulle grottaglie Fallo di Cruz sulle grottaglie È da vedere bene Fabio, perché sembra che anche le grottaglie si lascia andare E Cruz si lamenti Si lamenta anche Cruz in quell'occasione Cruz si lamenta per il fallo di mano Ah, si lamenta per il fallo di mano, esatto Sì, per il fallo di mano Però lì l'arbitro, qui il gol l'arbitro ha già fischiato, infatti Eh, dobbiamo, questa è l'inquadratura Ha fischiato prima Ha fischiato prima Ha fischiato prima, ma devo vedere l'inquadratura L'ultima inquadratura che abbiamo visto era quella dove si poteva capire Forse se da un piccolo mozzino, mi permetto La regia, se riusciamo a recuperare quel replay da un pochino prima Forse riusciamo a capire, l'ultimo che abbiamo visto Adesso Angelo Carosi con i suoi uomini Recupererà tutto Attenderei ancora un secondo perché è un momento decisivo Prima di andare al super spot Vediamo qui Ha visto l'ancata di Cruz Sì, sì, lui ha fischiato quello sicuramente Eccolo Ma Però ha visto il metodo di giudizio che c'è, Fabio Che determinate cose lasciano sempre andare Non lo so qui cosa ha visto di preciso Ha visto che l'ancata ha impedito alle grottaglie di arrivare prima sul pallone L'unica spiegazione è questa, super spot